Un punto nelle ultime due partite, Mister, da dove si riparte? Dall'assoluta necessità di fare una vittoria non solo per la classifica, non solo per il morale, ma per noi, per la maglia, per la società e soprattutto per il nostro pubblico. Quindi è una vittoria che noi dobbiamo cercare con una grandissima forza. È sicuramente il momento più difficile da quando sei arrivato sulla panchina del Modena. Come avete vissuto questa settimana? Un momento difficile perché i numeri in questo momento dicono che un punto in due gare è troppo poco, quando sulla carta per tutti se ne potevano fare sei. La realtà dei fatti ha dimostrato che anche chi è in bassa classifica in questo momento per salvarsi ha motivazione, tira fuori anche degli aspetti tecnici e caratteriali che ti mettono in difficoltà. Questa non è una scusante. Nei numeri siamo condannati in queste due partite, però c'è mancata una sorta di concretezza perché le occasioni da gol le abbiamo comunque create. Il possesso palla finalizzato a se stesso serve a poco, anche se abbiamo numeri molto importanti, quindi serve essere concreti, forti. Abbiamo affrontato la settimana con un solito piglio professionale perché questa è una squadra che comunque lavora bene, che ha grande senso del lavoro e di cui io non mi sono mai lamentato. Anzi, la mia arrabbiatura è che la domenica potremmo fare di più in funzione di quello che si vede la settimana. Allora anche l'aspetto emotivo caratteriale bisogna saperlo gestire al meglio e essere sempre fieri comunque di giocare al di là delle pressioni per una maglia così importante come il Modena. E' una squadra che ci crede ancora? E' una squadra che non ci crede, ci deve assolutamente credere ma con assoluta concretezza. Domenica si torna al Braglia contro il Pavia, una squadra in grande difficoltà, il Modena deve vincere, insomma è una partita che il Modena deve cercare di incanalare fin da subito. Sì, è la verità, bisogna, a parte che io credo poco al discorso dell'approccio alla partita perché quando tu lavori una settimana e hai amor proprio non solo della maglia ma del tuo lavoro e non si può sbagliare l'ora e mezza più importante della settimana. Quindi approccio o non approccio, bisogna essere bravi nella lettura della gara, pazienti se l'avversario ti crea difficoltà ma saper giocare anche sulle nostre abilità importanti e perché no su certe difficoltà avversarie. Visto che in questo campionato tanti con il Modena prediligono la fase difensiva, allora noi dovremmo essere scaltri, determinati e soprattutto molto molto reattivi e concreti. Le condizioni della squadra, ci sono Letizia e Ferrario che ancora lavorano a parte? Sì, hanno lavorato a parte da inizio settimana, hanno i postumi di problematiche legate all'ultima partita e solamente entro sabato valuteremo le loro condizioni. Comunque la rosa è ampia e il fatto di aver gestito sempre al meglio la condizione atletica che assicuro che è assolutamente buona, ci dà comunque garanzie di minutaggio e anche i cinque cambi ci possono aiutare a sfruttare al meglio quelle che sono le nostre abilità.